Ampliamento del numero delle corse, soprattutto nei giorni festivi e razionalizzazione delle fermate dell'Atac. Sono queste le principali richieste degli abitanti di Spallette per il potenziamento del trasporto pubblico. Spallette è un quartiere isolato, esempio la domenica non c'è il trasporto pubblico, è una cosa che stiamo chiedendo ormai da tantissimo tempo, ma non convocano commissioni e non affrontano il problema. L'altro problema più grave è che quel poco di trasporto che c'è è molto limitato, i mezzi non passano, saltano spesso le corse, ci sono fermate soppresse e manca l'unione di collegamento tra il 701 e il 098 che permetterebbe una continuità ai cittadini del servizio. Abbiamo delle persone che devono prendere i mezzi per scuola, per lavoro che sia e sono costretti a farsi lunghi tratti a piedi e su strade non conformi alla sicurezza. A pochi chilometri di distanza, a Piana del Sole invece, il nuovo capolinea del 701 ancora non vede la luce. Eppure nel 2015 erano stati stanziati 40 mila euro per il suo completamento. I lavori dovevano terminare entro il 2016. Nel 2014 avviamo un processo per realizzare la fermata, nel 2015 si è realizzata e siamo partiti con la realizzazione del capolinea. Per alcuni problemi il capolinea è stato completato ma stanziati i fondi. Doveva essere completato per dicembre 2016 con 40 mila euro disponibili, l'attuale maggioranza ha spostato i fondi per altre esigenze e noi ci troviamo ancora per due anni andare a piedi fino alla stazione non in sicurezza, un marciapiede fatiscente e soprattutto da nove mesi un tratto di strada buio, pericolosissima e non è accettabile questo. Quanto è importante per voi la fermata del capolinea alla stazione Piera di Roma? La fermata è estremamente importante per i residenti di Piana perché è l'unico modo per raggiungere in sicurezza la stazione Piana del Sole Piera di Roma e attualmente i residenti si trovano a percorrere un tratto che non è conforme alla viabilità perché comunque non è in sicurezza, non ci sono i marciapiedi, quelli esistenti sono comunque mal strutturati, ci sono i lampioni, oltretutto da diversi mesi il tratto è completamente al buio quindi oltre a non esserci una sicurezza stradale non c'è neanche illuminazione. È un tratto che è molto transitato dalle macchine da quando c'è appunto l'uscita della complanare quindi oltretutto ci troviamo anche in condizioni di macchine che sfrecciano i pedoni appunto come soprattutto poi anche donne con passeggini o disabili si trovano a percorrere un tratto estremamente non sicuro. Se ci fosse il capolinea lei lascerebbe l'auto a casa? È certo che lascerei l'auto a casa perché sono tanti spesi diciamo tanto l'assicurazione, il buolo e poi la benzina che è cara, tutto quanto. E qui quando sono qualche due o tre firmati si arriva diciamo con autobus. Peraltro l'attuale capolinea del 701 si trova in quest'area privata che deve essere riconsegnata nel più breve tempo possibile. Da Piana del Sole per Canale 10 Paolo Leone.